Un imbuto di vento, una tromba d'aria landspout, per usare un termine da meteorologia, è quella che si è alzata sopra Asiago. Queste le immagini girate intorno alle 14.30 e che ci sono state fornite dagli appassionati di meteo Bassano e Piedemontana. La scena è quasi da firma, ma per fortuna non ci sono stati danni. Questo tipo di tornado è anche la tipologia più frequente. Ha fatto più danni invece la grandine e l'abbondante pioggia che si è abbattuta nel primo pomeriggio. In paese i vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni allagamenti in abitazione. Ma è stato di attenzione in tutto il Veneto fino alle 14 di martedì, stando al centro funzionale della regione, questo per mantenere la protezione civile pronta in caso di necessità. Restano osservate speciali, naturalmente le frane di Enego e Borso del Grappa.